Vediamo come funzionano gli alfamatto, i mascherini in italiano. Vedete che qui abbiamo una composizione che contiene un logo su trasparenza, un video, quindi fotogrammi in movimento, e uno sfondo bianco che in questo momento non vediamo, è l'ultimo in fondo. Ora, per attivare un mascherino, che poi è l'equivalente delle maschere di Photoshop, dobbiamo innanzitutto averli attivi, ovvero dobbiamo espandere questo pannello che ci dà la possibilità di scegliere. Il mascherino traccia è selezionabile tramite questo menu. Come potete vedere è disponibile soltanto per questi due livelli. Perché? Perché non è disponibile per il livello del logo? Perché il mascherino è applicabile solo al livello direttamente sopra. Infatti se io inverto questi due, vedete che il livello del logo, oltre a essere scomparso perché è finito sotto il video, ma adesso ha la possibilità di mettere il mascherino, mentre se sta sopra non ce l'ha. Dunque, che cosa succede nel momento in cui noi lo applichiamo? Io vado a selezionare mascherino alfa e lui qui mi dice il livello su cui lo sto applicando, perché è il livello immediatamente sopra. Vediamo che quello che è successo è che io sto utilizzando, innanzitutto questo livello non è più visibile, io sto utilizzando il livello del logo come maschera per il livello del video. Queste due icone ce lo confermano, questa vedete che è la stessa icona delle maschere di livello su Photoshop. Per cui in questo momento io sto vedendo il video attraverso questa maschera. È macchinoso perché non gli sto veramente dando una maschera come su Photoshop, bensì sto utilizzando un livello e al livello che voglio mascherare sto dicendo da dove deve prendere la maschera. Io posso anche invertire la maschera proprio come in Photoshop semplicemente dicendogli mascherino alfa invertito. In questo caso, come possiamo vedere, il logo è visibile sopra lo sfondo, ma in realtà è lo sfondo che è forato. Infatti io per questo ho messo il livello bianco in fondo. Se io lo vado a disattivare, vediamo che è forato, perché in realtà questo livello mi sta dicendo che in corrispondenza dei suoi pixel esistenti il livello del video deve essere invisibile, proprio come le maschere di Photoshop. Ovviamente io posso poi prendere il livello della maschera e spostarlo, proprio come sposterei una maschera. Anche nel caso in cui fosse maschera attiva e non invertita, io posso prenderlo e spostarlo in giro. Il video sotto, il livello comunque a cui viene applicato, rimane fermo. Mentre io posso spostare soltanto la mia maschera, in questo caso il mio mascherino. E vedete che qui mi dice che cosa ho applicato, alfa o alfa invertito.